Brevissimo bilancio fino a qui come sta andando questo primo campionato di 3C per gli Stingers. Movimenti di mercato, gli Stingers guardano qualcosa, cosa vuoi dirci? Noi le porte non le chiudiamo a nessuno nel senso che purtroppo siamo partiti sul mercato per via dell'attesa dell'ufficialità dell'iscrizione alla C e quindi siamo rimasti un po' spiazzati su certi settori, li stiamo valutando anche perché dobbiamo completare anche l'Under-19 che ha bisogno di almeno un'integrazione, stiamo cercando di farla combaciare anche tra Under e C, in questo periodo non è semplice perché ovviamente i giocatori in circolazione ce ne sono pochi, ci confrontiamo giornalmente, ascoltiamo giornalmente anche diversi procuratori ma non è semplice, soprattutto in questo momento, quindi dobbiamo avere pazienza, se ci sarà l'occasione giusta perché a noi comunque serve qualcuno che ci vada a coprire il ruolo 4-5 soprattutto perché va messo accanto a Nathan De Sosa, va messo qualcuno, quindi vediamo quello che succede da qui ai prossimi due mesi, se capita la situazione giusta sicuramente non ce la facciamo scappare. Invece pagina Under-19, non sarai tu il capo allenatore, sarà Enza Caeta, che campionato ti aspetti? Il capo allenatore sarà Enza Caeta, ovviamente io ci sto lavorando con lei, ci confrontiamo, cerchiamo di sviluppare anche con loro lo stesso concetto che sviluppiamo in linea di massima con la C, visto che la serene maggioranza sono i ragazzi che compongono poi l'Under-19, che campionato mi aspetto? Sinceramente non saprei, ma considerando che ci sono anche la possibilità di schierare i 2-2004, secondo me sarà un campionato di buon livello, per cui i ragazzi hanno subito due partite fuori casa che non saranno semplici perché giochiamo a Gela e giochiamo a Barcellona, però si allenano da due mesi con il gruppo della C, sicuramente non sono impreparati, chiaramente dovranno avere il loro impatto anche su quel campionato, ma è giusto il tempo di prenderci confidenza e poi devono sicuramente anche lì dimostrare che sono in grado di stare sul campo.